Ciao, come state? Oggi volevo fare un video show and tell mostrandovi una parte della mia collezione di smalti, in particolare la parte degli smalti natalizi. Come potete vedere ho due collezioni che ho deciso di mostrarvi. Questa qui è della Essence e è di quest'anno quindi probabilmente la potete trovare ancora nei negozi. Mentre quest'altra qui è della Kiko e non mi ricordo se è dell'anno scorso o di due anni fa, perché io l'ho acquistata l'anno scorso ma in un rivenditore Kiko Outlet, quindi non so se la collezione è effettivamente quella dell'anno scorso oppure è un'edizione di due anni fa. In ogni caso credo che in qualche outlet Kiko lo possiate ancora trovare. Bene, iniziamo parlandovi di questi smaltini Essence. Allora, come vi dicevo, questi smaltini della Essence appartengono alla collezione natalizia di quest'anno. Io ne ho quattro ma in realtà erano sei o almeno io ne ho visti sei al negozio. Ho preso solamente questi quattro perché un altro era dorato, molto glitterato, ma non mi piaceva particolarmente perché aveva dei glitter molto grandi e un pochino troppo appariscenti per i miei gusti. Mentre l'altro era sull'argentato, sempre molto glitterato e non mi piaceva particolarmente. Quindi ho deciso di prendere solamente questi. Allora, cosa dirvi? Innanzitutto, come ogni prodotto della Essence, questi smalti costano veramente pochissimo. E il prezzo preciso adesso non ve lo ricordo ma ve lo scrivo giù nell'info box. Le colorazioni che ho io sono questa... Ah, innanzitutto scusate, mi sono dimenticata di dirvi che la collezione è quella natalizia di quest'anno, quindi 2015. E la collezione si chiama Mary Perry, ve lo faccio vedere anche da vicino. Mary Perry. Dicevo, i numeri che ho preso io sono lo 01, detto The Masked Ball. Lo 02, Purple with Purpose. Lo 03, Pink and Perfect. E lo 04, Red Rocks. Ecco, iniziamo proprio da questo qui. Allora, ve lo faccio vedere un pochino da vicino. Innanzitutto, notiamo il packaging della boccettina. È molto carino, è molto raffinato, è proprio il tema natalizio. Perché ha questa pallina dorata che riprende il colore della scritta posta proprio davanti. E appare, insomma, molto molto carina. Il colore è estremamente pigmentato, tant'è che proprio questo qui è quello che indosso in questo momento. Non so se riuscite a vederlo bene, penso di sì. E come potete vedere è un fucsia, però più tendente al rosso che al rosa. E considerate che questa è la colorazione con una sola passata. Cioè, hanno veramente una pigmentazione incredibile. Cioè, con una sola passata ti ha un risultato veramente molto molto coprente. Quindi, sotto questo punto di vista, sono straconsigliati tutti quanti questi. Se proprio vogliamo trovargli un piccolo difetto, è senz'altro il pennellino. Che adesso vi faccio vedere. Infatti, purtroppo, come molti smalti essence, devo dire, il pennellino è questo qui. Quello normale, insomma, a base cilindrica. E un po' vecchio stampo, diciamo. Ecco, questo pennellino è il difetto maggiore. Non perché renda impossibile la stesura dello smalto. Perché comunque, se si ha un po' di dimestichezza, si riesce a metterlo abbastanza tranquillamente. Però ecco, la stesura, diciamo che per risultare proprio perfetta, avrebbe bisogno di un pennellino più piatto ed ergonomico. Infatti, io spesso, per stenderli, non uso il pennellino originale, ma uso un pennellino di uno smalto Essie che ho. Ogni volta, infatti, lo pulisco. E perché, appunto, gli smalti Essie, proprio la marca Essie, hanno dei pennellini veramente fatti bene. Larchi, con le setole molto morbide, che stendono veramente molto molto bene lo smalto. Quindi, credo sia proprio questa una delle, dei punti di forza del marchio Essie. Innanzitutto, gli smalti sono molto buoni, come sapete. Però anche i pennellini sono molto molto validi. E quindi, credo che questo ne giustifichi anche il costo, piuttosto elevato. Comunque, vi dicevo, questo qui è il numero, appunto, 04. È quello che ho io indosso in questo momento. E si chiama Red Rocks. Lo faccio leggere. Red Rocks. Quest'altro, invece, anche se magari possono sembrare simili, in realtà non lo sono. Questo qui è più scuro e più tendente al viola. È un colore estremamente autunnale. È proprio perfetto per questo periodo, appunto, inverno, autunno. È veramente perfetto. È un rosso molto tendente al viola. Ma anche questo è estremamente coprente. Con una sola passata. Il risultato è veramente stupefacente. Anche qui, il pennellino però, è fatto allo stesso identico modo. Questo sarà uguale per tutti. Vedete, non è piatto. Purtroppo è di questi vecchi stampi. Questo, se vogliamo, è un pochino un deficit della collezione. E la colorazione è la 03 Pink and Perfect. Ve lo faccio vedere così. Ecco, che dire, quest'altro è lo 02 e anche questo qui, insieme a questo, è uno dei miei preferiti. Perché, non so se ora riuscirò a farvelo vedere bene dalla telecamera, ci proverò. Come potete vedere, sì, sì, si vede anche dalla telecamera. Il colore è un viola molto acceso, abbastanza chiaro. Ma la caratteristica principale è quella di essere metallizzato. Già lo vedete, ha proprio delle striature nel colore più chiare, sempre tendenti al viola. Che, una volta steso sulle dita, dà proprio un effetto metallizzato all'unghia. Molto, molto bello. Credo che a breve ci girerò un video e magari ve lo linkerò qui. Se poi mi ricorderò di farlo. E anche questo ha una pigmentazione straordinaria. Alla prima passata già è molto, molto evidente. Scusate per i rumori di sottofondo. Non so se li sentite tramite la telecamera. Purtroppo spesso devo fare molti tagli ai video proprio per questo motivo. Ho dei vicini, diciamo, abbastanza rumorosi. Ecco, però è l'unico modo per fare video e cercare di trovare orari in cui loro non facciano molto casino. Però, a quanto pare, anche di notte riescono a disturbare. Comunque, vi dicevo, questo qui è un viola molto, molto bello. E il colore metallizzato fa veramente un effetto bellissimo sull'unghia. Infatti non vedo l'ora di indossarlo per qualche video. E la colorazione è appunto 02 Purple with Purpose. Scusate la pronuncia, se non sarà perfetta. Cerco di farvelo vedere. Anzi, si mette a fuoco. Ecco. Questo qui. L'ultimo che ho io della collezione è questo qui. Come potete vedere è un viola molto, molto scuro. Forse dalla telecamera sembra quasi un nero. Mi assicuro che è un viola scuro, diciamo, un melanzana molto intenso. Con due passate è un pochino troppo scuro. Perché io l'ho provato sia con una passata che con due passate. Con una passata la colorazione è sempre molto pigmentata e molto coprente. Però con due passate rischia di sembrare un pochino troppo scuro. Quindi si può scambiare per un nero. E insomma voglio che si noti bene il colore che è un viola. Ecco. Non so quanto riuscite a vederlo bene comunque. Vi posso garantire che è un viola. Il colore è 01 The Masked Ball. Ve lo faccio vedere. Se riesco. Eccolo. E anche questo è veramente consigliatissimo. Molto molto bello. Soprattutto se amate i colori un po' dark, un po' scuri. Veramente molto molto bello. Anche questo spero di farvelo vedere presto in un video. Bene. La mia collezione di smalti natalizzi essence per quest'anno finisce qui. Adesso vi faccio vedere quella a Kiko. Eccomi. Allora questi qui sono gli smalti Kiko della collezione Real Glair. Vi faccio vedere come. Real Glair. E appunto non mi ricordo scusate se è della collezione natalizia 2014 o 2013 addirittura. Perché io li ho comprati l'anno scorso in un outlet della Kiko. Quindi li ho pagati veramente pochissimo. E anche qui se riesco a recuperare il prezzo magari ve lo lascio scritto o c'è nell'info box. Comunque io credo che presso qualche outlet siano ancora reperibili. Quindi approfittatevi adesso che ci sono i saliti. E magari se avete un outlet vicino casa con quasi sicuramente un negozio Kiko. Perché ormai stanno aprendo tutti gli outlet. Andate a vedere se li trovate. Perché anche questi sono assolutamente consigliati. Sono dei colori bellissimi. E io li ho 8 di 5. Perché ne sono usciti 5. Insomma non potevo resistere. Li ho dovuti prendere tutti quanti. Allora il primo che vi faccio vedere è lo 01. Ed è questo qui. Guardate che colore. È un rosa carne estremamente brillantinato. Ha dei glitter di tutti i colori. Volete vedere. E con una sola passata è abbastanza coprente. Ma di questo qui io ne consiglio due. Anzi un po' in generale di tutti quanti ne consiglio due. Per avere un colore ancora più intenso. La differenza con gli altri smalti. E' che questi qui sono glitterati. Ma risultano sabbiosi. Quindi rimangono ruvidi sull'ucchio. Una volta che mettete lo smalto. Non è quello smalto. Vedete com'è questo. Che rimane comunque lucido e liscio. Questo qui rimane sabbioso. Ruvido. Però se da un lato diciamo questo aspetto è negativo. Perché comunque al tatto risulta ruvido. Dal punto di vista della durata. Sono fantastici. Perché questi qua. Non hanno bisogno di un top coat. E mettendoli con due passate. Durano tranquillamente quasi una settimana. Ed è un risultato per uno smalto veramente incredibile. Allora torniamo a parlare di questo qui. Vi dicevo è il numero 01. E vediamo se così riesco a farvelo vedere. Ecco anche qui potete vedere che comunque è molto coprente. Di solito gli smalti color carne risultano un po' trasparenti. Quindi non si vedono molto una volta messi sull'ucchio. Invece questo qui è molto coprente. Ed è anche molto elegante e delicato. Quindi è indicato poi soprattutto d'estate. Se avete dei vestiti con dei colori chiari. Questo qui è perfetto. Perché dà molta luce sulle unghie. Però rimane comunque un colore neutro tranquillo. E anche qui devo dire un piccolo difetto di questi smalti. È sempre il pennellino. Perché come avete visto ve lo faccio anche rivedere. È un pennellino vecchio stampo. Anche questo, vedete, non è di quelli moderni piatti. E quindi anche questo qui fa un po' di fatica a stendere lo smalto come si deve. Però ecco, come dicevo, anche per gli altri smalti potete usare un altro pennellino. Io personalmente vi consiglio quelli della Essie. Basta che avete anche un solo smalto. Riciclate il pennellino ogni volta. Poi lo pulite e lo rimettete nello smalto. Altrimenti altri pennellini piatti buoni sono per esempio sempre della Essence della collezione Gel. E anche quelli lì, se non sbaglio, hanno il pennellino piatto. Quindi risultano molto confortevoli per mettere lo smalto. Bene, questo qui è un bellissimo rosso. Ve lo faccio vedere da vicino. È lo 02. Eccolo qui. È un rosso. Forse dalla telecamera risulta un pochino più fucsia. Ma vi assicuro che è un bellissimo rosso. E anche questo molto molto glitterato. Come potete vedere. E dà un effetto bellissimo sull'unghia. E questo qui a me dà l'idea di uno smalto molto natalizio. Quindi molto indicato per le festività. Ecco. Infatti l'ho messo anche alla vigilia di Natale. Quest'altro è forse uno dei miei preferiti. Insomma questo. È un bellissimo color ontario. Ve lo faccio vedere da vicino perché veramente merita. Eccolo qui. Guardate quanto è brillantinato questo smalto. È veramente stupendo. A parte il colore di base. Che è l'ottanio. Che io amo follemente. Forse è uno dei miei colori preferiti. Ma poi anche questi glitter. Che gli danno veramente una luminosità incredibile. È assolutamente straconsigliato. Infatti mi dispiace molto che non lo troverò più nelle profonde. Fumerie probabilmente. Perché altrimenti ne avrei prese altre 2-3 boccettine. Proprio per non correre il rischio e rifinirlo. Perché infatti lo metto poco. Ma solo nelle occasioni più importanti. Proprio per conservarmelo. Questo qui. È uno smalto che probabilmente conoscerete. Perché lo indossavo in un video. Che vi linko qui da qualche parte. È un blu elettrico. Anche questo super glitterato. Come potete vedere. E che vi devo dire sulle unghie. È veramente bellissimo. Se siete curiosi di vedere come sta il dosso. Andatevi a vedere il video che vi linko. E dà un effetto molto acceso. È un blu elettrico. Che appare subito sull'unchia. Proprio salta all'occhio. Quindi anche questo. Per delle serate estive. Quando magari siete vestiti un pochino più appariscenti. Stupendo. Ma adesso veniamo al punto forte. Scusate. Di nuovo rumori dei vicini. Questa volta ho dovuto per forza tagliare. Dicevo. Veniamo al punto forte. Che è questo qui. Ragazzi. Guardate che colore meraviglioso. Questo qui è veramente. Una cascata di glitter argentati. È stupendo. Anche questo qui. L'ho messo in un video. Che vi linko qui da qualche parte. Non mi ricordo se volevo qui. Comunque ve lo linko. E allora. Questo qui. Se avete bisogno di uno smalto. Argentato. Glitterato. Molto. Apparescente. Questo è ideale. Per esempio per Capodanno. È straconsigliato. Mannaggia amici. Che continuano a fare rumore. Io spero che dalla telecamera non si senta. E vi dicevo. È glitteratissimo. È davvero. Una luce all'unghia. Pazzesca. E. Niente. Io lo adoro. Anche se di base. È un color tortora. Ma è talmente pieno di glitter argentati. Che sull'unghia. Risulta proprio un colore argento. Glitteratissimo. Di questo qui. Super super consigliato. Se lo trovate. Prendetelo a ogni costo. Perché veramente. Merita. Merita tantissimo. Bene. Anche con la collezione di Kiko. Io ho finito. Credo di avervi detto tutto. Se avete qualche domanda. Qualche dubbio. Scrivetemelo giù nei commenti. Se il video vi è piaciuto. Lasciate un mi piace. E spero di avervi fatto compagnia. E di avervi fatto rilassare. Ci vediamo molto presto. Con un altro video. Ciao.